Sono in 7 al via con il numero 1 Vendetta, con il 2 Ventimiglia, con il 3 Vervolz, con il 4 Violet Joe, con il 5 Vesul, con il 6 Vernier, con il 7 Vanity OP. Gioco orientato abbastanza sensibilmente su Ventimiglia GV, Gaspare Loverde alla guida. La macchina che accelera, la prende molto prudentemente Vanity OP. Macchina che allunga, va per lasciare le concorrenti. Ancora prima dello stacco è saldamente al comando Vesul, che si insedia nel ruolo di leader nei confronti del numero 3 Vervolz, che ha all'esterno invece Violet Joe, quindi ancora Vendetta, più indietro gli altri capeggiati da Vernier. Si va così al completamento della piegata, con posizioni che non mutano, anzi si assestano. Così il gruppo si dispone in fila indiana, anche perché c'è Violet Joe che ha trovato posto alla schiena della leader. Così davanti alle tribune con Vesul che continua a condurre nei confronti di Viole Joe, quindi ancora Vervolz. Mentre si fa vedere per l'inesterno la favorita Ventimiglia GV, che prova la risalita dell'arco della seconda curva, mentre rimane discosta e fuori gara Vanity OP. 800 con sempre Vesul nel ruolo di leader, ora però Ventimiglia è arrivata quasi al suo sediolo, e quando siamo sulla dritta di fronte, i primi quattro che hanno scavato qualcosina nei confronti del resto della compagnia, Vesul al comando, si volta Roberto Muscolini a cercare un po' l'avversaria, che comunque per il momento si posiziona in schiena, poi sbaglia improvvisamente al momento di spostare, e così rimane in seconda posizione Vervolz. Le due abbondantemente avanti al resto del gruppo, capriciato da Violet Joe, ora con l'attacco all'ingresso e addirittura d'arrivo da parte di Vervolz, che va su Vesul, che però replica Vesul, che è ancora un abbondante di margine, si allarga la luce tra le due, Vesul che continua a contenere il ritorno di Vervolz, Vesul che nel finale si distende e guadagna ancora margine nei confronti di Vesul, mentre per il terzo posto, a distanza, finisce il ritorno di Ventimiglia GV, che non sappiamo se è finita a tabellone o meno. Questo è il risponso per quel che riguarda la seconda corsa, con la vittoria di Vesul e Roberto Muscolini, colori della scuderia Terra di Circe. Nel finale si è distesa abbastanza bene la figlia di Daguerapid, che ha contenuto tutti i tentativi da parte di Vervolz, 5 per il primo, poi 3 per il secondo, mentre per il terzo c'è da verificare la posizione di Ventimiglia GV, che taglia il traguardo per terza, mentre a tagliare il traguardo per quarto è il numero 6 di Vernier. È tutto per la seconda.